Musica Amiche e amici di Rossini TV bentornati a una nuova puntata di Casa Rossini Oggi abbiamo ospite Beatrice Pantanelli del Giardino di Santa Maria Beatrice buongiorno Buongiorno, buongiorno Paolo, buongiorno a tutti Allora, è inverno perché parliamo di giardini, è inverno È inverno? Vogliamo parlare proprio di giardini? Parliamo di qualcos'altro Si avvicina il Natale magari Esatto, ce n'è da parlare Anche se, guarda, il periodo migliore in realtà per piantare alcune tipologie di piante è l'inverno Autunno-inverno Le piante hanno un modo particolare di ragionare Quando è caldo ragionano in alto Cioè quindi con la vegetazione, la fioritura, la fruttificazione Quando è freddo ragionano in basso Cioè mettono delle nuove radici Per cui se noi andiamo a formulare un giardino in questo momento Avrà tutto il tempo nell'inverno di radicare E quindi di essere più pronto per la primavera a dare i suoi frutti Quindi è tutto un tempo di riposo in realtà sopra la terra ma di fermento sotto la terra Quanto mi piace parlare con le persone così competenti, così appassionate Perché sai, tu cominci la puntata senza neanche sapere bene che cosa dirai Lanci una battuta e parte una cosa Per esempio hai detto una cosa che per te potrebbe essere anche normale Ma in realtà forse per me e per qualcuno che ci sta ascoltando non lo è Tu hai detto le piante ragionano Hanno un modo di ragionare, perché no? Cioè c'è un istinto che le porta a costruire in determinati modi Bellissima questa cosa, a cui tutto sommato non avevo pensato Cioè hanno uno sviluppo che non è uno sviluppo stagionale automatico Non si sa bene perché E' anche casuale Esatto, non è per niente casuale Bella, bella questa cosa No, no, è molto bello Noi infatti adesso, guarda, la settimana scorsa abbiamo fatto un giardino E abbiamo piantato tante piante Proprio per avere uno sviluppo migliore nel periodo primaverile Tieni conto che quando pianti una pianta in primavera Ha poco tempo per fare radici E' chiaro, per esempio, ci sono le piante fiorite Non so, le surfinie, le begogne Tutte queste piante che sviluppano in poco tempo Riescono anche a fare una bella radicazione E ad avere tutto il loro sviluppo concentrato in pochi mesi Però se pianti un albero o un cespuglio Che darà i suoi frutti nel tempo Ha bisogno di una preparazione sotto Sotto il livello della terra Che è nel silenzio Nella completa indifferenza del resto del mondo Perché lui si sviluppa sotto e nessuno lo vede Però in realtà è molto importante Bellissimo Allora, è stata un'apertura folgorante questa E faremo questa chiacchierata con Beatrice Pantanelli Del Giardino di Santa Maria Perché poi in realtà prima abbiamo scherzato Sul discorso dei giardini Le piante ormai entrano da tanti anni Dentro le nostre case e le trasformano E ci sono dei momenti dell'anno particolari Per cui i terrazzi, tutto quello che vuoi Però ci sono anche dei momenti in cui Magari vicini al Natale Vicini a certe ricorrenze La pianta diventa qualcosa a cui si pensa Assolutamente sì Soprattutto come regalo Oppure anche come abbellimento della propria casa L'anno scorso abbiamo vissuto un Natale un po' terremotato Non potevamo trovarci Non siamo riusciti a passarlo con tutte le persone Delle nostre famiglie Quindi diciamo che è stato un Natale un po' ristretto Invece quest'anno sembra Perlomeno Perché mai dire mai Ancora esatto Sembra che forse forse riusciamo anche a ritrovarci Per cui Penso e spero che le persone Vogliano addobbare la loro casa Per ospitare la famiglia La famiglia, gli amici e tutto quanto Per cui la pianta diventa L'abbellimento giusto Diventa il regalo giusto Diventa insomma qualcosa a cui cominciare già a pensare La pianta e l'oggettistica natalizia Il 6 di novembre faccio riferimento Perché poi c'era anche Rossini TV Abbiamo fatto questa inaugurazione Non è stato un evento come gli altri anni Anche qui un po' tranquillo Però devo dire che le persone hanno risposto molto bene C'era un grande desiderio C'era un grande desiderio di riuscire fuori di casa Di vedere cose belle Il giardino oramai è un appuntamento storico Perché si veste di luci Si veste di colori Si veste di allestimenti Di addobbi E quindi un po' era Se lo aspettavano Ecco Diciamo che era un desiderio E c'è stato questo bel riscontro Il 6 di novembre Di gente ne ha fluita diversa Durante tutto l'arco del pomeriggio E c'è stato una bella Come posso dire Un bel riconoscimento Abbiamo lavorato Per la bellezza Questa è una cosa a cui io tengo molto Paolo Perché mi ha sempre È sempre stato un motivo ricorrente Nella mia vita La bellezza Creare qualcosa che sia bello E il giardino negli anni È diventato sempre più bello Con sempre più luci Sempre più punti Allestiti e addobbati A Natale Per cui per esempio Quest'anno proprio Per evitare assembramenti Abbiamo fatto Corridoi più larghi Abbiamo allestito Lasciando un centro Più spaziato In maniera che le persone Potessero muoversi meglio E tutto sommato Abbiamo Delocalizzato il Natale Cioè se prima era Chiuso in uno showroom Quest'anno abbiamo allestito Più parti Tra le serre Nelle serre Nel negozio Nello showroom Sotto l'arco Quindi creando Diciamo Più ambientazioni Per cui il giardino È risultato ancora più bello Perché hai potuto vedere più cose Certo Noi probabilmente Ogni tanto mi capita Di dare per scontato qualcosa Riferito ai nostri telespettatori Che invece così scontato non è Ricordiamo Che il giardino di Santa Maria Non è solo la denominazione Di un negozio di fiori Ma è un giardino E questa è la differenza fondamentale Ed è quello che fa Sì che Beatrice ne parli In questo modo E che l'invito Si è esteso a tutti Anche ad andarlo a scoprire A visitare Si trova a Santa Maria delle Fabrecce Praticamente E merita comunque Una visita Proprio per la bellezza E per la meraviglia D'immergersi In questo Che è a tutti gli effetti Un giardino È una villa È il parco di una villa Insomma Una cosa meravigliosa Infatti Non c'è solo il giardino Ma questo giardino È all'interno Di un complesso Di una villa Che il nostro titolare Sta restaurando Per cui È cambiata di colore Per esempio Adesso c'è questo rosso Molto bello Questi ocra Devo dire Che è stato un restauro Appropriato E molto 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 riuscito Insieme Il mio titolare Che è Gian Giacomo Vismara Curro Insieme ad un architetto Che è l'architetto Roberta Martufi Che hanno lavorato Per riportare La bellezza In questo palazzo E quindi Quando uno arriva Nota Il palazzo Nota poi Tutte le cose Che fanno parte Della corte Il consiglio È di venire Verso sera Perché le luci Fanno un effetto Magino Un effetto magico Devo dire Qualcuno L'avrà già visto E l'avrà già scoperto Esplorando Diverse Iniziative Che sono state documentate Da Rossini TV Tra cui Quest'ultima Di cui parlavi E ricordo Che lo speciale Realizzato In occasione Di questo evento È ancora In programmazione È in rotazione Come si dice E comunque Voglio ricordare Colgo l'occasione Per ricordare anche Che noi abbiamo Un archivio su YouTube Sul quale ci sono tutti filmati Raggiungibile Sia attraverso il computer Cercando appunto Il canale Di Rossini TV Su YouTube Ma anche attraverso L'app Per cui non avete scuse Per non fare Una bella esplorazione Di questa giornata Bellissima Del 6 novembre E di tutto quello Che è stato comunque Realizzato Con Rossini TV All'interno Del giardino Nei vari momenti Insomma E volevo aggiungere Una cosa curiosa Di solito Siamo abituati Che quando vieni qua Ci porti Un sacco di piante E noi Allestiamo Cerchiamo Fatichiamo Oggi non è portato niente 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 Ma allora C'è un motivo Gli alberi Arriveranno Più avanti Gli alberi freschi Ok Le fronde fresche Arriveranno più avanti Diciamo che anche Le stelle di Natale Arriveranno più avanti Perché se le piante ragionano Ragionano che a un certo punto Si devono maturare Perché se le fai maturare Troppo presto Rischi che quando è ora Di comprarle O di portarle nelle case Sono già Un po' passate Quindi Direi che è fondamentale La tempistica Anche nelle piante Non ho portato nulla Perché ancora Bisogna attendere Con pazienza Ci piaceva sottolinearlo Perché noi ormai Diciamo È passata l'idea Della frutta di stagione Per cui Ormai finalmente Si è capito Che comprare Non va bene Mangiare le arance Fuori stagione Però sui fiori Ancora E sulle piante Ancora questa cosa qua Non è passata Invece È un messaggio Che vogliamo cominciare a dare Le piante hanno Come del resto Tutto il mondo vegetale Una loro stagionalità E va rispettata Questa stagionalità Anche quando Le portiamo dentro casa Perché se no Vivono una vita traslata Finiscono prima Che succede? Finiscono prima Sì perché Dovete pensare Per esempio Alla famosa stella di Natale La poinsezia Che è un'euforbia Sviluppa tutte le sue Bratte colorate E il fiore vero È quello all'interno Che è un pallino A cui non dai due lire Infatti lei si veste Di questa livrea Fantastica Per compensare Proprio per compensare La piccolezza Dei suoi fiori Quelle che noi vediamo Rosse Bianche Colorate Sono poi foglie Che vengono trasformate Dalla pianta In maniera da vestirsi Un po' Come la coda del pavone Diciamo così Certo E hanno un tempo Di maturazione Se le anticipiamo Troppo Poi rischiamo Di avere un prodotto A Natale Poco durevole Invece noi vogliamo Intanto far capire Che le piante La stella di Natale Non muore Il giorno di Santo Stefano Che questo è Il concetto La portacasa Mi muore No È una pianta Come un'altra Un suo sviluppo Io a Pasqua Ancora ho i fiori Della stella di Natale Sulla pianta Quindi come ce la faccio io In una casa Ce la fanno anche gli altri Quindi non è Non è così automatico Che come ce la fai te Ce la fanno gli altri Ah ok È un postulato Insomma dai Diciamo che te Hai una marcia in più Rispetto a Una marcia in più Però ti assicuro Che ogni tanto Decidono di morire Anche le mie piante Succede Magari mi distrago Consoliamoci Succede anche a casa Mi distrago Non gli do l'acqua Gli ne do troppo Cioè succede Succede Le piante sono vive Reagiscono Al nostro Al nostro intervento È vero che ogni tanto Guardo le mie piante In casa e dico Come faranno A farle morire tutte Perché non è difficile Bisogna solo entrare In rapporto Questo anche con la stella di Natale Certo Che portata a casa Fa bello per molto tempo Non è una Appunto come dicevo prima Una bomba all'oroggeria Che esplode Il giorno di Natale La porto a casa Il giorno dopo Mi muore Certo E questo E poi anche L'abete Il famoso abete Da portare dentro casa Sì E questo è un argomento A cui tengo molto Io ho sia Gli alberi sintetici Quelli che vengono Chiamati Tra virgolette Ecologici E sia invece Gli alberi naturali Che secondo me Sono i veri green Quelli che noi Prendiamo in natura Ma non nei boschi Nelle coltivazioni Centinaia e centinaia Di ettari Coltivati Ad abete Che purificano L'aria per anni Perché prima Di togliere un abete Dalla terra Passano almeno Dai 5 ai 7 anni Per avere Una forma decente Perché partono Piccini Ma non hanno Una bella forma Per svilupparsi Ed avere La bella forma Cono Che siamo abituati A vedere Ci mettono Dai 5 ai 10 anni Per cui in questo Lasso di tempo Rimangono Nell'ambiente E purificano L'aria Senza contare Che tutte le volte Che viene tolto Un ettaro Coltivato ad abete Poi viene Ripiantato Ripiantato Per cui c'è Questo giro Continuo Di Piante Anche in quello Appunto Essendo ancora Prestino Non vengono Proprio tolti Dal campo Per cui noi Avremo Queste cose Appunto Come le fragole Raccolte Al momento giusto Sono più buone Più belle Così anche Un abete Una fronda E tutto quanto E' chiaro che noi Cerchiamo sempre Di anticipare Perché Devo dire Tenere L'albero di Natale Una volta c'era La tradizione Dell'albero di Natale Presepe Fatto il 24 di dicembre Era talmente poco Il tempo In cui godevamo Del presepe Delle luci Dell'albero Che insomma Abbiamo prima anticipato E' diventato L'8 di dicembre Adesso io ho Dei clienti Che dicono Io domani Monto l'albero Va bene Però ancora fresco Non c'è Se lo vuoi montare Sintetico Ok Però ancora fresco Non c'è Perché anche lui Ha le sue tempistiche E voi naturalmente Vi rivolgete Come fa il buon fruttivendolo A un mercato Che è rispettoso Di queste tempistiche Perché immagino Che probabilmente Ci saranno Altri modi E altri mercati Per poter ottenere Tutto tutto Sempre Come succede Per la frutta Però diciamo Che quello che si cerca Di fare E' anche fare Un po' di cultura In questo senso Cioè rispettare La stagionalità Del mondo Rispettare le tempistiche Che ha la natura Esatto Se li togli Troppo presso Dalla terra Non hanno ancora Avuto il freddo Quindi tendono A perdere gli aghi Cioè ci sono tante Tante Come posso dire Accortezze Sì accortezze Perché queste cose Tengano meglio In casa E noi abbiamo Un prodotto Durevole Noi ci teniamo Alla qualità E quindi Facciamo questo Anche questo Questo accorgimento E così ritorniamo Al motivo per cui Noi abbiamo Invitato E abbiamo questo bel rapporto Col Giardino di Santa Maria Perché Abbiamo riconosciuto Nel Giardino di Santa Maria Questa cura E questa attenzione Che diventa Un aspetto commerciale Diventa un aspetto Anche culturale Secondo me Ma poi si instaura Anche una fiducia Tu sai che Cerchiamo di fare Meno stupidaggini Possibili Poi Nella vita Succede sempre Però Meno errori Meno Meno sfruttamento Della cosa Del prodotto Certo Cioè cercare Di essere seri Con noi Con il cliente Che è l'utente finale E di non propinargli Cose che poi Non tengono O non Non fanno bello Come lui vorrebbe Certo Certo Io sono affascinato Dal mondo delle piante Che avevo trascurato Per Praticamente i tre quarti Della mia vita Anche di più Fino a quando Non ho cominciato Un po' per frequentazioni Un po' anche Grazie a queste puntate Grazie a tanti motivi Anche di lavoro A capire che c'è qualcosa Poi adesso Ne parlano molto Anche in televisione Dell'intelligenza delle piante Che è un altro tema Molto affascinante Insomma ci sono Ci sono mondi Da scoprire E la strada Per scoprirli Passa anche attraverso Realtà come la vostra Siamo quasi in chiusura Dacci un'anticipazione Su quello che è Il tema Del Natale 2020 Cosa succede Il regalo giusto La cosa particolare La pianta Un po' La scoperta vostra Il focus sul quale Il giardino di Santa Maria Sta concentrandosi Per il Natale 2020 Allora Caspita È una bella domanda Perché Le cose sono Veramente tante Non c'è Un unico prodotto Diciamo che Cerchiamo di avere Un assortimento grande Perché Le persone Possano scegliere Anche con il loro gusto Per esempio Anche negli allestimenti Del Natale Abbiamo tanti colori Colore di tendenza È il verde e marrone Con un blu Petrolio Nelle case Non sempre Uno è disposto A mettere Il verde sul verde Il marrone sul verde Certo Quindi abbiamo L'angolo rosso Abbiamo l'angolo argento Quest'anno È l'anno Dello champagne Che è un colore Intermedio Tra l'oro e l'argento Per cui è un po' più Delicato Rispetto all'oro O all'argento E meno freddo Dell'argento Si lega con tutte Le colorazioni Però appunto Io quando sono andata A visitare Questi grandi Queste grandi aziende Che danno i trend Per il Natale Questi erano i colori Verde su verde Marrone su verde Per cui un Natale Molto nordico Noi siamo abitati A rosso Certo Sai Paolo Sempre della cosa Che il rosso È entrato con la Coca-Cola In realtà Nel nostro Natale Perché nel 1920 Una roba del genere La Coca-Cola Ha presentato Questo babbo Natale Vestito di rosso E noi tutti Ah il rosso È il colore del Natale Ma non è così Cioè il colore del Natale È un colore neutro È il colore del bosco Perché E viene dal nord Babbo Natale Era vestito di verde Marrone e bianco Bianco la neve Verde Le conifere Dei boschi Il marrone Il sottobosco Il tronco Sì Il tronchi Esatto La terra Quindi questi sono I colori del Natale Poi noi siamo abituati A un luccichio diverso Siamo meno nordici Siamo più calienti Quindi questo rosso Ci piace molto Tra le piante Devo dire Che con stupore Ritornata In grande Con grande entusiasmo È ritornato il Cimbidium Era un vecchissimo Una vecchissima orchidea Che era stata abbandonata Per il Phalaenopsis Che è quella La bianca Con lo stelo lungo No? Che era un po' Diciamo nel minimal Perché è molto lineare Come fiore E invece adesso Siamo tornati nel maximal Cioè queste grandi piante Queste grandi esplosioni di fiori Devo dire che sono contenta Perché quando una pianta Viene messa da parte Per la moda Un po' mi dispiace Perché le piante In ogni contesto Cioè ogni pianta Ha un suo contesto In cui va bene In cui può trovare Il suo habitat giusto Per cui accantonarle Perché non vanno di moda Un po' Mi lascia sempre perplessa Però diciamo che Siccome tutto torna Accantonarla per un anno Serve per ridargli E quando ritornano Gli danno il rilancio Tutto torna E adesso è tornato Vedi siamo riusciti a chiacchierare Anche senza farle vedere le piante Hai visto? Hai visto? I minuti sono passati veloci Siamo bravissimi La puntata si conclude Naturalmente io ti ringrazio Invito tutti i nostri telespettatori Ad andare a fare una visita Al giardino di Santa Maria E ti ringrazio Per essere stata con noi A fare questa bella chiacchierata Che è sempre così imbogliante Fa così venire voglia Di venire a vedere Che cosa succede E di portarsi a casa Una bella pianta Ringrazio i nostri telespettatori Per aver seguito anche questa puntata Di Casa Rossini Vi do l'appuntamento A una nuova puntata Uno dei prossimi giorni E vi invito sempre A rimanere comunque In visione dei programmi Di Rossini TV Grazie Beatrice Per essere stata con noi E ci vediamo prossimamente Grazie Paolo Grazie Paolo di avermi invitato È sempre un piacere Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.